Abbiamo raggiunto degli obiettivi importanti che sono sia con la delibera dell'armamento che con quella del regolamento delle scuole materne, è giusto e sacro santo che si debba fare una conferenza stampa o due conferenze stampa da parte dell'intera maggioranza. Se poi qualcuno vuole anticipare, voglio dire che ha già detto quello che doveva dire, ma resta il fatto che oggi era la conferenza stampa della maggioranza. Sono fiducioso che le cose, se ci sono degli screzi, perché qualche differenza di impostazione, tutto si risolverà entro un brevissimo tempo. Non mi faccio dire di più, ma io sono sicuro che si risolverà tutto in un brevissimo tempo e io dico una cosa in più, ma non mi svelo. Cioè che passano tutti la lega, cosa vuol dire adesso? Perché se no ci deve far capire. Guardi, io più al di là degli schieramenti e al di sopra degli schieramenti per me contano tantissimi rapporti umani. E quindi io ho fiducia delle persone fino a prova contraria, forse sono troppo ingenuo da questo punto di vista come mia concezione, come mia formazione. E quindi voglio dire, i rapporti anche all'interno del Consiglio Comunale li vedo molto più validi e solidi se ci sono i rapporti umani e quindi c'è la fiducia reciproca. Ma c'è una manovra di accerchiamento nei confronti del sindaco o loro no? Assolutamente no. Mi guardo adesso il mio caro Roberto Di Piazza negli occhi, Roberto non c'è nessuna manovra di accerchiamento nei tuoi confronti. Cioè non volete la poltrona del sindaco, quindi lo spingete a una candidatura all'europea. Assolutamente no. Guarda, a noi interessa portare avanti le cose, portare avanti il programma, ci sono ancora tantissime cose da fare. Adesso questo dell'armamento è stato un grandissimo lavoro portato avanti. Io ho una conclusione, anzi diamo atto anche a Pierpaolo Roberti che per primo in questa consigliatura ha portato avanti il discorso. Io ho avuto la fortuna di concluderlo. È stato un bellissimo lavoro di squadra tra me e lui, ma anche con il gruppo mio, con la maggioranza, per cui portato a casa il risultato. Una prima parte perché poi bisogna ancora lavorarci tanto.